Non perdetelo di vista, lui nel quista, il controllo del suo MP339, questo è uno dei pochi jet al mondo in grado di eseguire questa manovra, signore e signori, l'Onsovac delle frizze tricolose. Ancora una volta, invitati alla vostra destra lezioni, ancora una volta, il vero, il bianco e il rosso raccontati dal capo con mazione. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Amicone, pronti a presentarvi la manovra più spettacolare delle frecce tricolori. Signore e signori, la ventura della bomba!